Siamo nel post partita con Riccardo Santamarina, capitano della squadra del Chelsea. Chelsea-Offnham, partita fino all'ultimo secondo. Finita e finita con due gol di scarto a favore del Chelsea, dopo una lotta continua. Com'è andata la partita Riccardo? È stata una bellissima partita, da entrambe le parti. Da una parte c'era un Lonigren de Bionato, che era la parte del Chelsea. Dall'altra c'era Lipari, che era anche un ottimo giocatore. Ha fatto la differenza da loro. Soprano a tenere bene la palla. L'abbiamo spuntata noi perché avevamo un Lonigro, come ho detto poco fa. Che era in giornata, infatti ha fatto un gol da paura. Pipice, punti nel campionato. Punti nel campionato e speriamo di andare avanti. Grazie Riccardo.